Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare questa nuova serie della De Agostini Dedicata al mondo di Street Fighter che veramente ragazzi c'ho una pelle d'oca disumana E poi nel corso del video vi farò vedere perché Questa nuova serie in abbonamento che potete acquistare in abbonamento direttamente dal sito De Agostini Vi lascio tutti quanti i link in descrizione con dei codici promo di cui vi parlerò appunto nel corso del video Miniature che vi arrivano a casa già assemblate e colorate che a breve poi vi farò vedere da vicino nel corso del video Ed è qualcosa di veramente spettacolare Colgo l'occasione per ringraziare la De Agostini di avermi fornito questi tre numeri per una recensione grazie di cuore Ed è un onore e un privilegio disumano poter collaborare con voi Grazie veramente Ma ve ne parlo a breve dopo la sigla Come vi dicevo inizialmente questa serie di Street Fighter della De Agostini Lunghezza della serie di 60 numeri E qui davanti vedete i primi tre numeri che sono Ryu con la miniatura che vi faccio vedere Chan Lee e da quest'altra parte Ken Servizio come detto precedentemente prima della sigla che potete fare in abbonamento direttamente dal sito E visto che ho dei codici promo e ve li scrivo direttamente in descrizione Primo link tanto trovate tutto quanto segnato Se fate l'abbonamento entro il 14 gennaio usando il codice promo che trovate in descrizione Oltre a tutti i numeri della serie vi manderanno anche una maglietta originale di Street Fighter Veramente bellissima Si parla di una serie lunga 60 numeri Quindi ogni numero avrà la sua miniatura Ma non ci saranno soltanto cose prese dal mondo di Street Fighter Versione normale insomma Ci ricordiamo Street Fighter 2 e tutti gli altri giochi che sono usciti Ma anche di tenere usciti negli anni successivi Come ad esempio Street Fighter Alpha Quindi rivedremo tutti i personaggi anche tra virgolette secondari Perché poi ormai sono entrati nel mondo di Street Fighter a piene mani Come Fei Long e tutti gli altri Poi rivedremo Chan Lee nelle varie forme e nelle varie versioni Ve ho detto fra l'alfa e fra normale Kami, Gai, Dalsim e tutti i personaggi che abbiamo conosciuto E veramente le miniature sono bellissime Colorate tutte quante tra l'altro a mano Ed è una serie che se vi fate la classica mensolina Ma qui più che mensolina ragazzi Questa è roba da museo Mi piacerebbe prendere una di quelle vetrine delle che è illuminate E mettercele tutte E se mi prende la mattana lo faccio Perché è veramente roba bellissima In ogni numero, tutte quante le uscite Troverete sempre un personaggio in 3D Un fascicolo per conoscere tutta quanta la storia del personaggio E tra l'altro ci sono anche piccoli aneddoti Dei primi giochi della Capcom e degli esperimenti Per dirvene uno, poi non vi voglio fare uno spoiler Final Fight, il coin hop arcade uscito in sala giochi Lo sapevate? Io non lo sapevo L'ho letto nel secondo numero di Chan Lee Lo sapevate bellissimo Che inizialmente doveva essere Street Fighter 2 Final Fight, infatti Haggard Se vi ricordate uno dei tre personaggi Sembra un po' Zangief Se prendiamo i protagonisti Cody e Guy Sono Ryu e Ken Alla fin fine anche come sono vestiti Sono anche dei piccoli aneddoti Che ci raccontano non soltanto la storia dei personaggi di Street Fighter Quanto anche i titoli della Capcom più famosi Queste figure sono tutte quante in PVC Sono alte tra i 9 e i 14 cm Dipinte tutte completamente e interamente a mano Sono curate nei minimi dettagli D'altronde pitturate a mano Non mi aspettavo di meno E autorizzate direttamente dalla Capcom E ora ve le faccio vedere Comunque qui davanti vedete c'è Ryu Mentre tira la Dokken Col suo fascicoletto Nel numero 1 Nel numero 2 abbiamo Chan Lee Sempre anche lei con collegato il suo fascicoletto e tutto quanto E da quest'altra parte il grande amico di Ryu Ma anche rivale se vogliamo Il signor Ken Masters Appunto anche lui con il suo fascicoletto Spettacolare mentre fa lo Shoryuken Adesso invece parliamo delle offerte dell'abbonamento Come si fa l'abbonamento e tutto quanto Così insomma che abbiate Che questo video vi serve anche per sapere appunto Come ordinare tutta quanta questa roba L'abbonamento funziona Che il primo numero Invece di pagarlo 5,99€ Che il primo numero è Ryu Lo andrete a pagare 1,99€ Il secondo numero invece che è Chan Lee Verrà a costare 5,99€ Il terzo numero Ken Invece di 11,99€ è gratis Non lo pagate Ripeto col servizio e un abbonamento Mentre tutti i numeri successivi in poi 11,99€ Fatto il conto su 60 uscite Potete vedere quanto verrà a costare Però la figata bellissima È che qui ogni numero Ha la sua miniatura Cioè non ci sarà mai un numero Con un fascicoletto Delle cose a parte Storia, libri, pagine nuove No Qui ogni volta che farete un acquisto Ci sarà sempre una miniatura Del genere E ragazzi sono veramente stupendi Vi fate tutta 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 la storia Di Street Fighter in miniature L'abbonamento serve ovviamente A non perdervi neanche un numero Dell'uscita E in più vi arriva direttamente a casa Poi ovvio facendo l'abbonamento Invece che pagare ogni singolo fascicolo Avete anche uno sconto Talvolta anche sono sconti del 30% Quindi non è poco fare un abbonamento Dopo ogni tot di invii Di numero La De Agostini vi manderà a casa Direttamente dei regali Ci sono in tutto Che potete fare Quindi attenzione Ma tanto link in descrizione Due tipi di abbonamenti Che potete fare Che sono lo standard E il premium Nell'abbonamento premium Ci sono tutti quanti Personaggi 3D Ovviamente come nella versione normale Tutti quanti fascicoli Più la versione digitale Quattro esclusivi regali Più quattro personaggi Ispirati alla versione alpha Che tra l'altro Sono di una bellezza disarmante In più il regalo Se vi abbonate Pagando con carta di credito O Paypal Avrete il personaggio di Ryu In formato XL Di 16 cm E ragazzi lo sapete Noi facciamo stampa in 3D Viene una cosa alta così Bellissimo Se fate l'abbonamento Con carta di credito O Paypal Come detto a poc'anzi Non pagherete mai Le spese di spedizione Ricapitolando Tutte queste cose Che potete avere Nei due tagli Appunto l'abbonamento normale Da una parte E l'abbonamento premium In quell'altra In più Entro il 14 gennaio Se vi abbonate Con il codice promo Che trovate qui in descrizione Avrete anche la magliettina Quindi come vedete È un'offerta bellissima Che non me l'aspettavo Vi dico la verità È stato un fulmine Cioè il sereno Perché poi Io parlo personalmente Parlo per me Ci voglio mettere un po' Del mio a fine video La storia dei picchiaduro Soprattutto dei coin hop È molto vasta Perché comunque C'è sempre stata Una sfida grande Da una parte Street Fighter E da una parte Mortal Kombat Ragazzi Sono due capolavori Tutte e due Però Street Fighter È un po' il padre Di tutti questi giochi È quello che è rimasto Più iconico Perché non ha Puntato tanto Sulle fatality Su troppe cose Troppi schemi Le mappe interattive Dove potevi addirittura Sbalzare il personaggio fuori Street Fighter È partita da un concetto base Anche perché Se ricordiamo Il primo Street Fighter Potevate usare solo Ryu Tutto al più Quando facevate il doppio Quell'altro usava Ken Quindi voglio dire Fondamentalmente È stato sempre Un gioco facile Nelle meccaniche Immediato Puntava a fare una cosa sola Essere il re Appunto di picchiadure Secondo me ci è riuscito bene Perché poi sono usciti Virtua Fighter Sono usciti Tekken Però Street Fighter Secondo me È rimasto un po' Il barloomer Capostipite Davvero la celligina Sulla torta Che ha fatto un po' Da padre Se vogliamo Anche da re A tutti questi giochi Che poi sono usciti successivamente Ed è un capolavoro disumano E queste miniature ragazzi Cioè si presenta Anda sole Pitturate a mano E scolpite veramente Da paura Che immaginatevi Io mi farei qui dietro Una vitrina E ce le mettere tutte Perché se avessi il posto Perché sono veramente bellissime Insomma ragazzi Con questo video Vi ho dato tutte le informazioni Per fare questa nuova serie Questa nuova colazione Di Agostini Che io di Agostini Ringrazio di cuore Per avermi dato questa possibilità Ed è ovviamente Un piacere E un onore Poter collaborare con voi Grazie veramente di cuore E ragazzi Trovate tutte le informazioni Sul sito di Agostini E in descrizione A questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima